Ciao a tutti! Oggi prepareremo i fagiolini in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono fagiolini, salsa di pomodoro, aglio, olio evo, sale, pepe, prezzemolo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la salsa di pomodoro, il prezzemolo, il pepe, l'acqua, il sale, posizionare il cestello, chiudere con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. I fagiolini sono cotti. Anche il pomodoro è cotto. Amalgamiamoli in una ciotola e servire. Fagiolini in umido. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!